Se c'è una cosa importante all'interno di un processo structure from motion di elaborazione fotogrammetrica è la fase in cui una volta che hai inserito i ground control point, i punti di appoggio e le loro coordinate, devi dire al software di sistemare tutto quanto e generalmente si fa a livello di nuvola di punti sparsa, anzi ti consiglio di farlo a livello di nuvola di punti sparsa, sistemare tutto quanto sulla base di queste coordinate. E' un po' come se fossero delle puntine, è un po' come se tu avessi steso un grande lenzuolo tridimensionale che copre un po' qualcosa, però questo lenzuolo potrebbe non essere effettivamente corrispondente con la rappresentazione della realtà. Allora tu metti una serie di puntine che fissano la posizione su punti di cui sei certo, sono i ground control point e il modello una volta che gli hai detto quali sono queste posizioni e gli lanci questo comando, il comando di ottimizzazione dell'allenamento, si sistema in modo tale da sistemare tutto il modello, tutti i punti della nuvola sparsa sulla base di queste informazioni. Quindi è chiaro che più sono i punti di appoggio, più sono i ground control point e migliore sarà questa sistemazione, sistemazione che comprende la rototraslazione, se c'è bisogno di sistemare da un punto di vista delle coordinate assolute in riferimento al sistema di riferimento dei punti, anche una correzione delle distorsioni, quindi non è una correzione lineare ma è una correzione che si può dire polinomiale di ordini superiori al primo e quindi ci sono delle correzioni delle distorsioni che è molto importante, cosa che non si riesce a fare se prendi una nuvola di punti, la porti in un altro software e la provi a georeferenziare soltanto con una rototraslazione e fattore di scala. C'è anche un fattore di scala, quindi le dimensioni vengono aggiustate e le camere, la posizione delle camere, la posizione dei sensori nel momento della presa viene tutta sistemata sulla base dei punti che vengono ottimizzati, quindi l'ottimizzazione dei punti della nuvola sparsa rimanda alle camere la loro posizione corretta che avevano effettivamente al momento dello scatto. Tutta questa cosa qui sta dentro l'ottimizzazione dell'allineamento e in questo video voglio farti vedere come si fa all'interno del software Agisoft Metashape. Allora andiamo dentro, rifaccio brevemente l'inserimento delle coordinate dei marker che avevo fatto nel video precedente ma che rifaccio in questo, quindi seleziono il file di testo, dovrebbe essere tutto a posto, gli do ok. Può capitare che quando inserisci le coordinate dei marker succeda questa, cioè disparisce il modello che avevi sotto la nuvola di punti sparsa, questo è legato a una discordanza di coordinate che devi fissare con le impostazioni di georeferenziazione, discordanza tra le coordinate dei marker che in questo caso sono cartografiche e le coordinate delle foto che sono geografiche. Allora vai qui dentro, reference settings e le camera reference è cambiata, probabilmente vai a scegliere qual è il suo riferimento effettivo che è WGS84. A questo punto tutto dovrebbe tornare un po' alla normalità. A questo punto ho le coordinate dei punti, coordinate dei punti che hanno una loro precisione, nord, est e quota. Adesso devo lanciare l'allineamento, l'ottimizzazione dell'allineamento. Perché ottimizzazione? Perché l'allineamento esiste già, l'allineamento è già stato fatto, i punti sono il risultato dell'allineamento, le camere, eccola qua, la posizione dei punti delle camere, te la fa vedere qua al software, è il risultato dell'allineamento. Ma io lo voglio ottimizzare, perché in questo caso, in questo momento, i punti della nuvola sparsa non tengono in considerazione delle coordinate che io gli ho dato. E io voglio dire al software, guarda che io ti ho dato delle coordinate che sono molto buone, molto migliori di quelle che tu sei stato in grado di calcolarti sulla base delle coordinate delle immagini. Prendi queste coordinate, tieni buono anche tutto quello che hai fatto, ma sistema tutto quanto sulla base di questi valori, che io so, perché li ho rilevati io in campo, essere molto buoni. Quante ce ne vanno? Ebbè, questa è una domanda a cui magari risponderemo in un altro video. Dipende dalla complessità dell'area, il numero minimo è qua, 3. Io ti consiglio mai di toccare il numero minimo. Starei su un minimo di 5, ce ne andrebbero un po' di più, io ne metto tanti. Se l'area poi è mossa, vanno distribuiti in maniera omogenea su tutta la superficie e anche sulle differenze di quota. Insomma, qui entriamo un po' nelle pratiche di campo e non più sulla parte di gestione software. Però, insomma, hai questi punti, hai queste coordinate. Io di punti ne ho 2, 4, 6, 8, 9. E gli ho dato le coordinate. In questo video ti faccio vedere l'ottimizzazione dell'allineamento e non entro nel merito dei punti di controllo e dei punti di appoggio. Lo facciamo nel prossimo video, perché anche questa è una parte molto, molto importante. Come si fa a fare l'ottimizzazione dell'allineamento? Allora, tu vedi che quando porti dentro le camere, non le camere, le coordinate dei marker, hai anche un'informazione, qui apriamo un po' di più, oltre che le coordinate, S-Nord, elevazione, precisione, che sono le precisioni strumentali che gli hai dato tu, errore. Attenzione, perché questo non è l'errore del tuo rilievo in output e non lo sarà neanche dopo l'ottimizzazione dell'allineamento. Non lo sarà fin tanto che non gli diamo dei punti di controllo su cui calcolare degli scarti, ma lo vediamo poi nel prossimo video. L'errore però è già un dato abbastanza interessante. Come viene calcolato? Viene calcolato sulla base di un riferimento assoluto, quindi si esce dal piano 2D, dal riferimento cartesiano 2D delle immagini, si va in un riferimento tridimensionale metrico, che è quello, in questo caso, dei Ground Control Point, e si calcola quella che è la coordinata che il punto, che il modello ha calcolato per quel punto, rispetto alla coordinata che gli abbiamo dato noi, che è nota che sono queste coordinate misurate in campo. Ci sono le proiezioni, quante volte questo punto compare, in quante immagini compare questo punto, e l'errore di riproiezione. Poi abbiamo un valore medio dell'errore sui Control Point, che sono appunto i Ground Control Point, in questo caso sono 5,5 cm. Si può fare meglio, perché il modello non è ancora ottimizzato. Come si fa a ottimizzare l'allineamento? Allora, intanto dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo dire al software che tutto quello che farà ad ori in avanti in termini di sistemazione della nuvola dei punti sparsa, lo deve fare dimenticandosi delle informazioni di posizione delle camere. Perché? Perché queste informazioni di posizione sono scarse. In questo caso non è un drone RTK, non è un post-processing, non è un PPK, sono coordinate scattate da un drone che ha un GPS molto simile a quella di uno smartphone, le cui precisioni sono dell'ordine di qualche metro. Quindi noi non vogliamo questi dati. Ci sono andati bene per utilizzarle, per velocizzare l'allineamento e avere una posizione grossolana di questa nuvola sparsa. Ma adesso noi le vogliamo dimenticare perché ci servono i dati buoni, quelli che abbiamo rilevato in campo. Ora le selezioniamo tutte e le deflagghiamo, quindi ci togliamo la spunta. In questo caso, in questo modo, noi diciamo al software di levarsi dalla testa, di utilizzare ancora le coordinate o tutte le informazioni che sono scritte nelle immagini per tutte le fasi successive. La spunta rimane sui punti, sui marker. Poi vediamo nel prossimo video che togliendo e mettendo la spunta facciamo un'operazione molto importante nel decidere quali punti lavorano in un modo e quali in un altro, ma lo vediamo nel prossimo video. A questo punto, con tutti i marker spuntati, e ti ripeto, non deve essere con tutti i marker spuntati, però in questo video lo facciamo con i marker spuntati, andiamo qua, dove c'è questa bellissima stella, e lanciamo il comando di Optimize Cameras. Si chiama Ottimizza le camere, Ottimizza l'allineamento, sono delle cose legate uno con l'altro. La camera ha portato all'allineamento, quindi ottimizzando la camera ottimizza l'allineamento e viceversa. Se clicchi qua, lui ti apre una finestra e ti dice ok, quali sono i parametri che vuoi ottimizzare? Questi sono i parametri dell'allineamento, sono parametri di orientamento. In fotogrammetria classica sono gli orientamenti interni, esterni, relativi e assoluti. Sono parametri di orientamento, questi sono parametri di orientamento legati, scusa, alle camere, quindi c'è l'aggiustamento della distanza focale, l'aggiustamento delle distorsioni tangenziali, da K1 a K4, l'aggiustamento delle distorsioni, scusa, queste sono le radiali, l'aggiustamento delle distorsioni tangenziali, l'aggiustamento della posizione del punto principale, che è la proiezione del centro di presa sul sensore, quindi tutte queste cose vengono aggiustate. Nel momento in cui vengono aggiustate c'è un'ottimizzazione dell'allineamento, perché? È perché diamo dei valori che sono molto più solidi rispetto a quelli che avevamo prima. Hai altri parametri, altre opzioni? Allora, io generalmente le flaggo, metto il flag, quindi fit additional corrections, quindi modifica, migliora correzioni addizionali, perché no? Stima la covarianza dei punti e poi puoi scegliere Adaptive Camera Model Fitting. Cosa vuol dire? Che se tu fai un click su Adaptive Camera Model Fitting, vedi che non hai più la possibilità di mettere il flag su una o più di queste opzioni, di questi parametri generali. Perché? Perché con Adaptive Camera Model Fitting il software automaticamente, in maniera autonoma, va a cambiare lui i parametri che secondo lui vale la pena cambiare, quindi c'è anche una sorta di ottimizzazione di questa fase, senza andare a cambiare tutto quanto, dove magari alcuni parametri non ha senso cambiare. Quindi, in questo modo, vai a dare un'opzione, vai a scegliere dei settings che secondo me ti danno un ottimo risultato. Ora, se dai ok, parte l'ottimizzazione dell'allenamento. Non è un processo lungo, ma è un processo che richiede un po' di tempo, un po' di risorse, quindi è molto probabile che mi si inchiodi la registrazione, quindi non lo faccio. Io l'ho già fatto, l'ottimizzazione dell'allenamento, e ho creato un altro chunk con il modello ottimizzato. Quindi qua faccio Cancella e ti faccio vedere il risultato. Tieni a mente magari questi numeri che, ti ripeto, non sono fondamentali e non è l'errore, non è la precisione del rilievo, l'accuratezza in output del rilievo, ma è comunque un dato di riferimento. È il miglior dato di riferimento che puoi prendere adesso per capire che cosa è cambiato. 5,5. Errore medio sui control point. E come errore di riproiezione qui abbiamo 0,228. Allora, il chunk dove ho fatto l'ottimizzazione dell'allenamento è questo. Ora, non è che sia cambiato molto. La nuova dei punti è sempre quella. Non si è densificata, non si è ribaltata, perché comunque già andava bene prima. È chiaro che se tu hai un dato senza informazione di camera, magari scattata da una camera terrestre, e il modello è tutto impennato perché non ha informazioni di dov'è il su e dov'è il giù, allora sì che le cose cambiano e cambiano davvero tanto. In questo caso non è che cambi molto. Però andiamo a vedere qui in reference. Ok. Lui cosa ha fatto? Ha ricalcolato tutto. Ha ricalcolato la posizione dei punti e ha ricalcolato, anche qui non si vede molto, perché non è che stiamo parlando di variazione di 90 gradi dell'angolo della camera, di inclinazione del sensore, ma l'ha un po' aggiustato. Ti dicevo di tenere d'occhio questo numero, perché è quello che ti dà un po' il senso, non il senso, ti dà un po' la percezione di quello che effettivamente è cambiato. Allora, l'errore medio dopo aver fatto tutto questo calcolo, quindi l'errore tra la posizione del punto calcolata dal software e la posizione che gli abbiamo dato noi, è di due centimetri. Quindi si è più che dimezzato in senso positivo, in modo migliorativo. L'errore di riproiezione è 0,201 e comunque è diminuito, quindi vuol dire che in questo modo noi abbiamo contenuto, abbiamo aggiustato in maniera positiva tutto quello che è stato fatto fino adesso, quindi l'allineamento e la generazione della nuvola di punti sparsa sulla base delle informazioni di punti che sono stati introdotti dall'esterno. Questa è una fase importantissima. Senza questa fase non si può avere confidenza del modello tridimensionale che stai creando, della nuvola di punti che stai andando a cercare poi con la fase successiva anche se in realtà qui c'è già, non puoi avere confidenza del dato che stai dando in output. E questa è una fase veramente importante perché lega in maniera indissolubile la modellazione tridimensionale, la structure from motion, la risoluzione dell'equazione di collinearità con la topografia che abbiamo fatto in campo. Abbiamo chiesto di valutare la covarianza dei punti se vai qui, adesso in questa icona che è l'icona relativa alla nuvola di punti sparsa, questi quattro punti un po' distante, point cloud, vedi la point cloud, point cloud, la covarianza dei punti, spegniamo le camere, la covarianza dei punti ti dà una stima di quanto è buona e di quanto è corretta, non corretta, di quanto è solida la ricostruzione tridimensionale dei punti. Qui hai una scala di colore e fortunatamente vedi che la maggior parte dei punti, quindi la maggior parte della covarianza relativa ai punti, sta nel range dell'azzurro, del blu o dell'azzurro, del ciano, quindi sono valori bassi, più bassa la covarianza e meglio è. Valori alti nella scala di questa leggenda ce n'è, qualcuno ce n'è, ma sono pochi, quindi vuol dire che la stimola alla covarianza ha dato in output un risultato tutto sommato positivo da un punto di vista statistico sulla bontà di questi punti alla fine del processo di ottimizzazione. Ti ripeto, non abbiamo ancora introdotto un altro fattore importante che sono i punti di controllo, cioè i punti che ti permettono di capire veramente quanto è accurato il modello sulla base di dati assoluti, lo facciamo nel prossimo video, ma ci tengo veramente a dire che questa parte è una parte fondamentale. le fotografie che abbiamo processato non sono fotografie che hanno valori di precisione sulla posizione alte, non sono fotografie scattate da un drone RTK né tramite post-processing PPK di dati acquisiti da un ricevitore L1 e L2 a bordo di un drone, come adesso incominciano a vedersi, però questa parte è una parte che nella normalità della Structure of Front Motion non può mancare, perché altrimenti fai un bel modello tridimensionale, bello quanto vuoi, ma non hai la robustezza del dato per dire ti produco, ti do in output un dato solido di cui sono confidente, perché? Perché ho fatto l'accoppiamento, ho fatto un matching tra la topografia in campo e la Structure of Front Motion che ha ricostruito la nuvola di punti a cui ho dato solidità con le coordinate e con questo processo di ottimizzazione dell'allineamento. Nel prossimo video mettiamo dentro i punti di controllo e poi riottimizziamo l'allineamento, vediamo le differenze e capiamo poi qual è la differenza tra l'errore che abbiamo letto e effettivamente l'accuratezza in output del rilievo o comunque del risultato che daremo fuori. Spero che ti sia stato utile questo video, lo puoi condividere, puoi iscriverti al canale Telegram di 3Dmetrica telegram.me slash 3Dmetrica o puoi supportarmi se pensi che questi video siano utili, se pensi che quello che condivido abbia un valore per te è libero, assolutamente puoi scegliere di diventare un finanziatore di 3Dmetrica 3Dmetrica.it slash supporta. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo, ti saluto fortissimo. Ciao, da Paolo Coradeghini.